Buonasera a tutti ragazzi, oggi ci troviamo dalla chiesa di San Nicolò a Cecilia di Milacciano, abbiamo un certo di 4 campane, adesso ripetiamo la melodia alle 19, quindi nel frattempo faccio vedere quella al campanone, quella alla minzana, la sinistra e l'altra minzana e la lampana a corda, ora ascolteremo i battiti sul campanone e la mia maleduta di Rizzo Nobile, mamma mia, è troppo vento, accidenti, mi sono messo davanti la tettoria, molta miseria, Doardo Campanone, a riprendermelo via, quindi a presto da Doardo Campanone di Milotto e buona ascolta a tutti, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!